ciao a tutti oggi prepareremo la bevanda tipo caffè zero gusto espresso il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa gli ingredienti sono zucchero latte cubetti di ghiaccio e caffè espresso congelato a cubetti diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il latte il caffè congelato e i cubetti di ghiaccio chiudere con il coperchio senza il misurino posizionare la spatola ed azionare il bimbi per 30 secondi da velocità 6 a velocità 8 spatolando iniziamo 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 il caffè zero gusto espresso è pronto trasferire in dei bicchieri e servire bevanda tipo caffè zero gusto espresso grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti